Ciao a tutti e bentornati nel canale di Studio 72. Oggi andremo a vedere come effettuare questa scritta con effetto vetro o ghiaccio come avete appena visto appunto nella preview. Prima di tutto vi ricordo di iscrivervi al canale qualora non l'abbiate già fatto ed ora passiamo al tutorial. Io ho già importato la sequenza appunto su Adobe Premiere. La prima cosa che dobbiamo andare a fare è duplicare la sequenza. Per farlo teniamo premuto il tasto Alt sulla tastiera, poi col tasto sinistro del mouse prendiamo e portiamo di sopra la sequenza in modo da crearne una uguale a quella precedente. Poi andiamo in effetti. Il primo effetto che andiamo ad applicare è rifletti in orizzontale. Quindi andiamo a scrivere rifletti orizzontale. Andiamo a prendere il nostro effetto e lo portiamo appunto sopra alla seconda traccia. Ora andiamo a fare un altro effetto che è traccia mascherino, quindi andiamo a scrivere mascherino, mascherino traccia, lo prendiamo e lo applichiamo sempre sulla seconda sequenza, quella che siamo andati appunto a copiare. Ora l'ultimo effetto che è alfa rilievo, prendiamo e applichiamo anche questo. Ora andiamo a selezionare appunto lo strumento testo, clicchiamo sul nostro video e andiamo a scrivere appunto il nostro testo. Io nel mio caso scrivo studio 72. Qui come vedete possiamo andare a visualizzare tutti i parametri del nostro testo, modificare il font, la grandezza, insomma tutto quello che vogliamo. A questo punto una volta fatta la nostra scritta lo andiamo a centrare. Più o meno in questo modo. Allunghiamo la scritta per tutta la durata appunto della sequenza ed ora andiamo a selezionare la nostra seconda sequenza, quella che abbiamo copiato prima con tutti gli effetti. Andiamo in mascherino traccia, andiamo qui su mascherino e andiamo a selezionare video 3 che sarebbe appunto quello della nostra scritta. E come vedete ci dà già l'effetto vetro o ghiaccio. In alfa di rilievo invece possiamo andare a modificare lo spessore dei bordi. Vedete si aumentano, aumentare o diminuire i bordi, ruotare l'inclinazione appunto dei bordi, l'intensità di luce. A 0 naturalmente ce lo darà piatto perché non dà riflesso, così invece ci dà il riflesso completo, io più o meno lo tengo a 0.4. Ed ora possiamo andare a vedere appunto il nostro risultato finale che è questo qui, che grazie al riflesso in orizzontale come vedete si dà all'interno questo senso di movimento, di tipo di lente, di ingrandimento e di riflesso. Quindi questo è tutto per quanto riguarda questo tutorial, vi ringrazio di avermi seguito, vi ricordo di iscrivervi al canale, mettere mi piace qualora vi sia piaciuto il video, commentate per qualsiasi cosa e ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao a tutti!